Il progetto di ricerca a nuovi sentieri di sviluppo dell'Appennino Marchigiano è stato concluso ieri mattina a Palazzo delle Marche. I risultati sono stati presentati dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo con il Vice Presidente Renato Claudio Minardi ed il Consigliere Segretario Boris Rapa ed il Coordinatore scientifico del progetto, il Professor Massimo Sargolini dell'Università di Camerino. Per sei mesi 50 docenti, ricercatori e neolavoriati hanno lavorato assiduamente adottando un metodo nuovo. Per la prima volta hanno collaborato tutte e quattro università marchigiane insieme al Consiglio regionale. Gli aderenti al progetto hanno studiato l'area maggiormente colpita dal sisma, realizzando in sei mesi un atlante dettagliato del cratere, l'ascolto di 85 sindaci e 11 proposte per la ripresa delle aree interne. I dati della ricerca saranno diffusi nel dettaglio sabato 7 aprile a Camerino, nella sala convegni del rettorato di Unicam a partire dalle ore 9.30. Il lavoro che è stato messo in campo dal Consiglio regionale delle Marche con grande attenzione nei confronti dei luoghi che hanno subito il terremoto, 87 comuni nel cratere, è un lavoro importante messo in campo dalle quattro università delle Marche e realizzato nei tempi previsti nei sei mesi. Questo progetto vuol guardare al futuro perché se da una parte è stata ben gestita l'emergenza, dall'altra le popolazioni ormai stanno ultimando a rientrare nel territorio di origine, nelle casette che sono state messe a disposizione con la gara realizzata dalla protezione civile. Anche qui dobbiamo dire sì, c'è stato qualche ritardo, ma l'individuazione delle aree, la realizzazione delle opere di urbanizzazione in zone piene di vincoli paesaggistici e idrogeologici non era assolutamente facile. Ora le popolazioni stanno rientrando e quindi bisogna guardare al futuro. Questo studio vuol guardare al futuro perché le popolazioni devono guardare con interesse al loro rientro ma anche alle opportunità di sviluppo, quindi l'arte, la cultura, il turismo, la possibilità di creare imprese, le attività imprenditoriali possono essere una grande occasione di rinascita per quei territori, guardando anche alla ricerca, all'innovazione e ad una maggiore presenza sul mercato. Questo studio è uno studio importante che guarda con dieci punti specifici lo sviluppo di quel territorio e sicuramente con la condivisione degli amministratori locali e dei sindaci sarà una grande opportunità di crescita e anche di maggiore crescita per quei territori.